In questa unità parleremo delle periferiche di output. Prima di parlare delle periferiche di output, dobbiamo chiederci, ma cosa sono gli output? Sono il risultato dell'elaborazione dei dati immessi nel computer, gli input appunto, tramite le periferiche di input e restituiti all'utente mediante le periferiche di output. Le periferiche di output principali sono il monitor e la stampante. La principale periferica di output del computer è il monitor. Ma a cosa serve? Serve per visualizzare i risultati dell'elaborazione ed i dati che vengono inviati al computer mediante la tastiera ed assume l'aspetto di un televisore, come rappresentato in figura. I monitor si differenziano principalmente in base alla tecnologia con cui vengono realizzati, alla dimensione ed alla risoluzione. In base alla tecnologia con cui vengono realizzati, si possono distinguere in due grandi categorie. Monitor CRT, Monitor LCD. Il monitor CRT è il tradizionale monitor con tubo catodico dei vecchi computer. È una tecnologia ormai obsoleta ma ancora funzionante e molti vecchi PC ancora lo utilizzano. Poi abbiamo il monitor LCD, è il monitor piatto attualmente in commercio. Questa tecnologia è usata per realizzare sia gli schermi dei computer portatili che quelli dei computer fissi. I monitor si differenziano inoltre in base alla dimensione, espressa in pollici, della diagonale dal vertice più basso al vertice opposto più alto dello schermo. Il pollice è l'unità di misura lineare anglosassone, in inglese inch, e corrisponde a 25,4 mm. Un'altra caratteristica importante del monitor è la risoluzione. Ma che cos'è la risoluzione grafica dello schermo? Lo schermo del computer è suddiviso in celle, ognuna delle quali è detta pixel. Ciascuna è poco più piccola di un millimetro, 0,25 mm. Moltiplicando il numero delle linee Y per il numero delle colonne X, si ottiene il numero dei punti pixel sullo schermo, come riportato in figura. Il numero dei pixel determina la risoluzione grafica del monitor. Esempio, un monitor con una risoluzione grafica 1024 x 768 ha 1024 pixel su ognuna delle 768 linee. Per far colloquiare il monitor con il PC, è necessario che quest'ultimo sia dotato di un dispositivo chiamato scheda video, come riportato in figura, e le cui caratteristiche siano compatibili con il monitor. Un'altra periferica di output, che, seppur non indispensabile per il funzionamento del computer, è ormai di uso comune, è la stampante. La stampante è una periferica che permette di riportare sulla carta ciò che appare sul monitor, o comunque testi, grafici ed immagini, che si desidera avere con un output permanente. Attualmente, i tipi di stampanti più diffusi sono due, le ink jack, aggetto d'inchiostro, e le laser. Le stampanti ink jack, cioè aggetto d'inchiostro, sono costituite da testine di stampa, su cui sono caricate le cartucce d'inchiostro. Nelle testine ci sono piccolissimi iniettori, che, mentre la testina si sposta in orizzontale, spruzzano sul foglio microscopiche goccioline d'inchiostro ad alta pressione. Sono le più diffuse, in quanto la loro affidabilità è ormai molto alta, ed il costo è contenuto, anche nelle versioni a colori. Funzionamento completamente diverso hanno invece le stampanti laser, che sono basate su un fascio di luce laser, che traccia sul rullo la stampa finale, caricandola elettrostaticamente. La polvere d'inchiostro del toner, cioè la cartuccia vera e propria, è attirata dalle zone elettricamente cariche, e successivamente trasferita e fissata ad alta temperatura al foglio di carta che passa sul rullo. Le stampanti laser garantiscono una qualità di stampa migliore delle ink jack, ovviamente il costo è maggiore, specialmente nei modelli a colori. I moderni PC sono ormai tutti dotati di scheda audio, cioè di un dispositivo in grado di trasformare i bit in suoni. I suoni poi vengono riprodotti dal PC e possono essere ascoltati tramite le cuffie o gli altoparlanti, che vengono collegati agli appositi connettori posti sulla parte visibile della scheda audio. Sia le cuffie che gli altoparlanti sono quindi periferiche di output, in quanto restituiscono il risultato dell'elaborazione sotto forma di suoni. Nei computer più recenti la scheda audio è ormai integrata nella scheda madre.